Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, oggi vi voglio riproporre un vecchio video di focus sullo sterpin, perché ha un suo significato, in quanto da un po' a questa parte, pure io ad esempio sul mattino 5, ma figuratevi stasera, stasera a quarto grado si continuerà sulle solite inutili speculazioni che vanno in un senso unico che purtroppo a me mi dispiace dirlo, non ha troppo significato e non porta sicuramente a nessun tipo di verità, per cui vi faccio vedere questo video sullo sterpin che praticamente mette a nudo tante di quelle stranezze, ecco soprattutto tra le tante che vedrete in questo video, soprattutto quella famosa telefonata delle 8 e 22 in cui lui dichiara di averla rimproverata perché perché non la sentiva da alcuni giorni, voi capirete che questa è clamorosa questa cosa qui, perché? Perché era proprio il giorno precedente che c'era stata quella telefonata così drammatica e significativa appunto che molto probabilmente è lì che avviene il blocco del contatto di Claudio Serpin, la sua cancellazione per cui il numero poi dal giorno successivo di appare soltanto come numero e non come nominativo. Ed è questa la verità, è questa che dovrebbe essere un po' approfondita, invece no, vedete, per il 31 a mattino 5 si parla ancora del telefono bloccato alle 10, ha telefonato sbloccato alle 10.56 senza tener conto che in effetti faceva parte di quella famosa applicazione per cui va subito alla segreteria telefonica per i numeri sconosciuti, ma che lo diciamo a fare? Ancora si dà atto che alle 8 e 22 lei e Liliana doveva andare alla Wind, ma chi lo dice? Lo dice sempre la stessa persona, ancora che aveva un appuntamento quella mattina a casa di Serpin, ma chi lo dice? Ma dove c'è scritto questo che aveva un appuntamento con lui? Lo dice sempre lui, ma ormai a che titolo? A che titolo è presente anche in collegamento a Serpin? Che in questa storia probabilmente non c'entra assolutamente niente, quindi si fa una sorta di tribunale televisivo che sta anche bene sotto certi punti di vista, volete approfondire delle vicende, in questo caso è basato su delle assurdità glamorose, ma bisognerebbe farlo con tutti, bisognerebbe farlo a 360 gradi. Si parla di celle telefoniche, si dicono cose inesatte, quella sera è localizzato il telefono di Sebastiano presso la pescheria, ma vogliamo essere seri, parliamo di celle telefoniche che abbracciano chilometri, che abbracciano chilometri, mi giungono delle segnalazioni di tante persone che vanno a grado, credo che sia molto distante dal confine con la Slovenia e andando a grado da lì addirittura arriva il messaggio dalla cella slovena di benvenuti in Slovenia, quindi se non so, saranno forse anche 30 chilometri, quindi immaginate, si parla di queste celle telefoniche come se fosse una localizzazione di GPS, quindi e si specula sempre sulle solite cose, la GoPro, il fatto che è stato o non è stato nell'officina, tre ore, insomma, insomma, ma poi si dovrebbe capire anche quale sarebbe il senso, vedete questa cosa, io mi rifiuto anche di commentare, cioè che questo Sebastiano la sera prima fa tutto questo escamotaggio con Liliana in macchina dicendo tu fermati qua, resta qui che io devo fingere una cosa, devo consegnare i coltelli perché domani mattina fingo di averli consegnati perché devo venire ad uccidere te o a sequestrare te o a fare qualcosa contro di te, quindi è proprio perché lui già sa, cioè la sera prima lui già sa esattamente quello che capita, quello che capitale il giorno successivo è in quei minuti perché Liliana scompare visivamente alle 8.50 e Sebastiano alle 9, 9.10 sta nel suo laboratorio, quindi è tutto congegnato, è proprio un genio, un genio del crimine al secondo, ma comunque vedete io non le voglio nemmeno più commentare poi quella intervista, l'albergatrice, assolutamente vedete si sfiora il zidicolo, stiamo andando questo zidicolo, cioè fare indagini televisive e dire cose come se fossero vere, come se fossero vere, non si dice alle 8.22 la wind come se fosse una cosa vera e si sottace invece per quella che è invece la telefonata più importante, quella del giorno 13, di 16 minuti nella quale Liliana stava proprio secondo me impazzita avanti e indietro come mai, voi vedete tutti i tabulati dagli ultimi 10 anni pure non c'è mai una telefonata di 16 minuti, mai, un minuto, mezzo minuto, un minuto e 10, 50 secondi, solo il giorno 13, 16 minuti, dopodiché lei blocca lo serpino, ecco perché poi lo blocca, poi cancella tutti i numeri bloccati ed ecco perché il giorno dopo arriva quella telefonata delle 10.56 che in automatico viene dirottata alla segreteria telefonica come da l'applicazione, ma voglio dire ma che cosa serve poi, a che cosa serve, ecco perché ritengo utile mandarvi adesso questo focus fatto messi fa sullo serpino in cui ci sono alcune, alcune di queste ammenetari che passano in cavalleria perché dice vabbè tanto che fa, insomma l'ha detto, si dovrebbe fare questa, diciamo questa verifica certosina al limite su tutti, anche se ritengo che alla fine sia anche inutile tutto ciò perché la mia ipotesi è sempre che la povera donna uscita in quel modo anonimo fosse capitata in qualcosa di strano che la portata via da Trieste, probabilmente sequestrata, ed è seduita cadavere nei sacchi neri, nei sacchi neri della spazzatura, come monito, perché chi doveva capire capisse. Questo è, fatemi sapere cosa ne pensate e poi non so se non riuscirò a vedere questo grado sicuramente perché poi sarò fuori impegnato, però insomma mi faranno sapere qualcosa, sicuramente sarà un altro teatro molto triste e molto ridicolo, già lo so. Quindi guardate, grazie, grazie, e un abbraccio a tutti quanti voi. Carissimi amici, sul web impazza la polemica sul caso di Liliana e soprattutto la polemica che vede al centro, diciamo, ahimè non tanto la la povera Liliana, ma i due che li chiamano i due contendenti, che poi non so, diciamo, fino a che punto si possa parlare di contendenti di cosa. Da un lato abbiamo un marito, legittimo marito, che contro il quale, al di là, come dire, delle critiche di ordine morale, non vedo altro e dall'altro è l'observo amante. Allora, nonostante, nonostante che io, diciamo, mi esponga, so che ci sono delle critiche, però io oggi voglio dirvi su questo Claudio Serpin alcune cose. Alcune cose che, per carità, fanno sempre parte, ovviamente, non del Vangelo secondo Matteo, ma del Vangelo secondo Nicola. Quindi sono opinioni. Nessuno si rizzeli, nessuno venga a dire, ma no, ma quella immarita e cosa. Siamo in attesa, poi, d'altronto, delle verità che vedranno fuori, soprattutto dalle analisi tossicologiche, perché qualcuno poi dice, a proposito, queste analisi tossicologiche, ma quanto tempo ci vuole per averle, quanto tempo ci vuole. Dovete sapere che, in assenza di una sostanza specifica da trovare, perché se si avesse, come dire, la ipotesi che ci fosse dentro un certo tipo di sostanza, sarebbe più facile, ma non sapendo una ricerca specifica, allora la cosa si fa più lunga. Si fa più lunga e mi hanno detto, appunto, che prima della fine del mese non avremo la risposta. E allora voglio specificare alcune cose che mi fanno pensare male di questo Claudio, perché egli cerca subito di spostare l'attenzione su Sebastiano e dice, ad esempio, no? Dice, ma perché lui, vedete, non è come me che mi sono subito attivato, addirittura i vicini di casa l'hanno quasi costretto a fare la denuncia alle 10 di sera. E allora questo è un indizio secondo lui. Ma io dico questo. Ma io non lo vedo tanto come un indizio, perché voglio dire, in una coppia dove non è successo mai niente di che, in cui c'è una grande indipendenza durante il giorno, ora fare una denuncia di scomparsa ai carabinieri, è una cosa abbastanza impegnativa. Ora, se Sebastiano pensava che magari avesse incontrato nel pomeriggio qualche amico, qualcuno, alla luce del fatto che non aveva con sé nemmeno i cellulari, allora magari io posso anche pensare, lui diceva, magari aspettiamo fino a sera, dovesse arrivare che ha avuto qualche imprevisto, qualcosa. Invece questo diventa un indice di colpevolezza. Ma voglio dire, certamente la doveva fare. Una volta fatto la sera o alle 7 di pomeriggio, a mezzanotte o il mattino dopo, non vedo che cosa poi sarebbe cambiato, voglio dire. Poi, per quanto riguarda poi quello che è stato detto, che lui dava le cose di Liliana, come la bici, eccetera, dopo la spedizione, ma questo sembra sconfessato, noi l'abbiamo, l'abbiamo vista. Quindi, ma poi, se noi pensiamo dal punto di vista logico, perché io seguo sempre questa pista della logica, ma mi sembra, mi sembra logico che se lui avesse fatto qualcosa a Liliana, allora dopo due, tre giorni, quattro giorni, cinque giorni va a regalare le cose di Liliana, ma sarebbe stato un autogol clamoroso. Cioè, immaginate, sarebbe come dire, vedete che sto facendo, quando sono stupido, vado a dare le cose di mia moglie che già so che è morta. Non è stato così, non è così, e mi meraviglia di questi pseudo amici. Ma quello che a me adesso è più sospetto, amici miei, è questa smania di questo Claudio venuto dal mondo di 40 anni prima, dal nulla, questo personaggio che è venuto dai sogni, che cerca di spostare subito l'attenzione, sia su Sebastiano, lui sempre su Sebastiano, sul movente economico, e diceva guardate che mi aveva detto Liliana, sempre a voce, perché nulla c'è per iscritto, Whatsapp, niente, mi ha detto che non lo voleva lasciare in Braga e di te, l'aveva fare un piccolo tesoretto di 50 mila euro, quindi questi 50 mila euro poi, a suo dire, erano da lasciare al povero Sebastiano, magari che insieme a un'altra casetta un po' più piccola, che la povera Liliana stava cercando, non si sa dove, non è vero niente, perché non è emerso nessuno che abbia detto sì, la signora Liliana è venuta da me a cercare, a chiedere qualche caso. Nessuno si è fatto avanti, nessuna agenzia, nessun privato. Quindi, ma soprattutto quando questo Claudio parla di amore rifiorito, amore rifiorito, dice, ma rifiorito da dove? Cioè rifiorito significa fiorito di nuovo, ma fiorito cosa? Cioè tu, a tuo dire, 40 anni prima hai conosciuto quel che era una ragazza, poi ha fatto la tua vita di 40 anni con due mogli, figli, cioè rifiorito cosa? E per non parlare poi dei vari indizi, li vedremo alla fine, alla fine del video, vi dirò gli indizi che fanno sospettare di lui. Ma veniamo a quell'altra cosa ridicola, a mio avviso, è a mio avviso, quell'altra cosa ridicola della medaglietta. Voi sapete che lui, secondo me, è un'ossessionata anche dai numeri. 19 dicembre 81, da ricordare come cosa? Come il giorno in cui, nell'era glaciale, aveva conosciuto Liliana. Ma dico io, no? Ma ricordare cosa? Cioè se tu devi ricordare che l'hai conosciuto 40 anni prima, perché non la ricordavi prima? Perché questa medaglietta non la facevi all'epoca? Non la facevi dopo un anno, dopo sei mesi? È proprio una medaglietta, ma lo dici tu, una medaglietta senza un iniziale. Se io devo ricordare qualcosa dedicata a una mia amata, ma quantomeno metti il suo nome, le sue iniziali. È una buffonata, direi io, con rispetto parlante. Quindi è come se io ricordo che tanti anni fa, pure io, quando avevo 20 anni, ricordo che ebbi una breve storia con una ragazza di Caserta, si chiamava Maria, un nome molto comune da queste parti. E avevo 20 anni, stavo ad Amalfi, ebbi una piccola storia con questa ragazza all'epoca. È come se adesso, dato che sono passati 40 anni, io facessi una medaglietta con una data, mi presentassi da lei a dire questo è un'occasione per ricordare che noi ci conoscemmo una volta, senza nomi, senza iniziali. Poi ho fatto delle date. Ma voi pensate, il 19 dicembre. Il 19 dicembre è la data sulla medaglietta dell'era glaciale. Il 19 dicembre era la data della morte della seconda moglie dell'anno prima. Il 19 dicembre, in occasione dell'anniversario della morte della moglie, doveva far venire a casa sua a Liliana. Quindi il 19 dicembre, 19 dicembre, 19 dicembre. Quindi medaglietta il 19 dicembre. Il 19 dicembre dell'anno prima muore la moglie, che poi i funerali sono stati fatti successivamente. Il 19 dicembre lui doveva far entrare in casa la presunta amante. Il 16 dicembre dovevano andare a fare una gita di tre giorni. Poi tornavano il 19 e prima di entrare a casa sua, dovevano passare la Sebastiana, che faceva forse già trovare fuori casa tutti gli imballaggi delle cose di Liliana per evitare il fastidio. mi faceva già trovare tutto pronto perché, insomma, eh, no, non è ancora. Quindi, io leggo tante cose qua, ma veramente delle assurdità. Questo suo agitare. Ma quello chi è? Cioè, voglio dire, a passo da nulla, cioè, il 25, poi il 25 ottobre, il 25 ottobre mi è scoppiato qualcosa. Oh, ma forse ti è scoppiata, non so, la macchinetta del caffè, è stata scoppiata, è stata scoppiata la bombola del gas. Non so che cosa si è scoppiata. No, lui dice, mi è scoppiata la passione, l'amore. Passione di cosa? Di cosa questa passione? No, ma lei veniva una volta a settimana a stirare le camicie, quindi la stirata di camicie fu fatale. La fatale stirata di camicie. Ma mi sembra una cosa che se non fosse tragica sarebbe comica. Io dico, ma è possibile mai che dobbiamo pendere dalla bocca di una persona che secondo me, eh, secondo me è un mitomane, ma secondo me un parere non vi agitate. Per me è un mitomane, secondo me è una mia impressione, non vi agitate. Si agitava lui però, si agitava lui, telefonava a destra a manca, ai vicini di casa, agli amici, a San Sebastiano, andava, partiva a trovare la zia per dire, io sto qua, la sto cercando. Poi ai funerali scrive la lettera che dà l'amica, ben sapendo che poi questa lettera l'amica l'avrebbe fatta transitare alla procura, in cui lui, lui dice, io qua non c'entro niente, secondo me è stato Sebastiano con qualcuno, cioè i miei sospettati, e scrive, scrive, e dà dai funerali, dà la lettera. Dicesse piuttosto, il nostro amico innamorato 82enne, dicesse piuttosto, come mai c'è stavano questi sacchi neri nella sua macchina? Come mai ci stavano queste bottigliette uguali a quella di trovare c'è una cadavere di Liliana nella sua macchina? Queste coincidenze. Come mai il suo amico Covalero, Fulvio Covalero, dice che era andato lì, in quel boschetto, perché aveva un presentimento, che stava lì, perché il suo amico Covalero va a cercare su internet, va a cercare notizie, notizie, se è un umanziano, non so che anziano, non so che significa, sopra gli 80 anni almeno, se magari c'è un cide, provoca la morte di qualcuno, poi ha uno sconto di pena, e chissà, andiamo a vedere su internet, vediamo un po', su internet, vediamo, vediamo un po', può avere uno sconto di pena, ma perché? E no, così, è una, meglio, è una, come dire, una curiosità, una curiosità, uno viene alla curiosità di dire, io voglio sapere se invece l'ha ucciso un 18enne, magari è diverso, però mi era venuta la curiosità, ma dobbiamo credere a queste bagianate, bene? però io potrei chiusare, potrei concludere, con le parole di questo Claudio, ma guardate, ma da dove è uscito? Dal nulla, nessuno sapeva niente, immaginate, no? Le amiche intime, il fratello, nessuno aveva visto niente, la fruttivente, il tabaccaio, nessuno, nessuno, mai, possibile, mai, possibile, nessuno, dal nulla, però lui a chi l'ha visto? Vedete, quando uno è come se ci avesse la coda di paglia, dice, perché la giornalista dice, ma, chissà, eh, qualche sospettato, lei, cosa ne pensa, si dicono tante cose, e lui subito si allarme, dice, io, io sarei stato, l'ultima persona a guadagnarci, dalla morte di Liliana, eh, aveva, avevo, eh, una vita da cominciare con lei, eravamo d'accordissimo, per quale motivo, avrei dovuto eliminarla, avrei dovuto ammazzarla, e, e spegnere un futuro luminoso, ecco, vedete, nessuno l'aveva accusato, e lui si difendeva, c'è una massima latina, che dice, dice, scusatio, scusatio non petita, accusatio manifesta, quindi significa, una scusa non richiesta, non richiesta, è un'accusa manifesta, è scusatio non petita, accusatio manifesta, quindi, la classica coda di paglia, detta così, fra di noi, e, quindi, con questa massima latina, sì, purtroppo, eh, e come dicono i contadini, dicono, la gallina che, che canta per prima, è quella che ha fatto l'uovo, un poco, un poco, è lo stesso concetto, ecco perché, fra i due, Sebastiano e Claudio, non è che si sta facendo, e lo scontro tra i due uomini, no, per carità, io non vedo, al di là di una condanna, vi ripeto, dal punto di vista morale, di comportamento come marito, tutto quello che volete voi, ma non è vero, che lui non ha alibi, no, quello era rientrato prima, ha alibi perfetti, mentre Claudio non ha alibi, nemmeno uno, che possa dire, no, lui, non so, dalle nove, alle dieci, è stato visto qua, nessuno, in più, ha questi sospetti, e quindi, quindi questo è, non è che uno ce l'ha, con una persona, troppo, sono i dati che parlano, i fatti, e spero, che, poi vedremo, poi, l'indagine andrà avanti, vedremo un po', se questo mio ragionamento, se questo mio ragionamento, non è valido, dovesse uscire qualcosa, che, le accusa qualcun altro, io sono pronto, a dire, ho sbagliato, non c'è problema, però, il ragionamento logico, mi porta, a insistere, su questa linea, su questa tesi, grazie, alla prossima, buona giornata, un abbraccio, a tutti quanti voi, ciao, grazie a tutti,